...della tradizionale antichissima fiera di merci e bestiame di San Gregorio. Si è svolta a Morciano di Romagna, in provincia di Forlì, la terza mostra concorso del bue da lavoro di razza romagnola, che ha assunto quest'anno particolare importanza per la numerosa partecipazione degli agricoltori di tutta la regione. Grazie a tutti.